La televisione lei è del giorno, io so, io vengo dall'Australia, ma perché non fate scaricare tutto a tutti? Ecco il discorso, però non lo dice mai, devi far scaricare tutto a tutti così si ripia l'economia in Italia, perché è inutile che date incentivi all'azienda, se non c'è nel lavoro ma chi li ha superi, nemmeno gli date gratis, perché si chiede tutti la pensione sociale e gli italiani che stanno all'estero? Io sono stato, lo so, chiedono tutti la pensione sociale, 700 Euro perché gli ho mananelli, tutti i mesi sono 4 milioni, senza un versamento, lei me lo deve spiegare perché? Gli ho detto a finiti, c'è una legge vecchia, cambiatela! Quelli ci hanno un versamento, nemmeno l'Italia conosco, noi siamo in Australia nel 2004, sono ritornato con un amico, dice noi, tutti i padronati da GGL a Merbo ce ne stanno più di loro, loro non gli arrivano nemmeno le cartelle per votare! Da votare anche le cartelle gli arrivano! Si sono buoni proprio a governare, ma voglia quante cose ci si potrebbero fare? Le regioni da quando che hanno cominciato? Nel 70, io ho 71 anni, con Ferrara lo sapevo, però ce l'ho, con Ferrara e il padre, entrò subito in crisi qua a Marozzi, lei lo saprà no? Un deputato che se candida, non si chiama, se candida lui, quando viene eletto? Porta il 730 che era da medico, prendi la messata da medico, ti facci i versamenti da medico e quando avrai 65 anni va in pensione, è una cosa più semplice, che problemi c'è il santo? Vieni a lavorare con la macchina tua, come fanno tutti, perché devi tenere scorta? Dico, a voglia quante cose ci potrebbero fare con l'immigrazione! Perché li menate, loro dicono che poi ce menano per strada, vogliono la scorta! Perché ti comporti bene, perché Ove stava vicino a me a mangiare, io un amico mio ho detto ma ne è Ove? Dice sì, ho fatto una senza scorta, dice a me che problemi c'è il santo? Ausibile Suntere Suntere